No, gimme lì sopra Oh, ma è un clown? No, sì, è tipo un tizio È un clown? Eccolo lì Vuoi? Vuoi cosa? Ballare con me? No Mamma mia, è insidioso questo Cazzo ride? Va bene Ma se mi ha detto di no Sbagliamo È Pietro questo Minch, è vero lui Ah, lui bene Sì, sì, è lui senza bene Ma che cazzo è Ma no, mai fai rire al link, ho visto cosa Oh mamma C'è pure il naso da clown E a luci da labbra È una faccina Salta, vai Ma dal telefono addirittura C'entra Miralo Miraci Mira Ma non capisco come cazzo è Destra e sinistra, idiota Salta Ora Ora Ma perché sei così negato per questi giochi qua? Ma non lo so, ma all'inizio sono sempre negato Spacca Quando ero Uomo a testa a patata Rispondi Vai Che cazzo Non ho capito Non ho capito Game over Non dimmi che se adesso riavvio No, no Riavvia subito No, non ballare Salta Vai Ma perché non salta, ho scacciato Quando è sulla zona blu Ah Pensavo che fosse una piscina No Destra e sinistra Vai Mira Vai Oh, meno male Oh yeah Oh yeah Dilancia Destra e sinistra Ah Ma idiota Ce l'avevi fatta Non risponde Ma perché Ma non ho capito Non puoi fare più tirica Salta Salta Hop Hop E' così facile Oh yeah Spacca 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 Ah Hey Yeah Oh Speed up Oh ma è vero Spara Vai Oh ma è vero Oh ma è vero Era realistico come salta E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Sembra A Puoi che montare? C'era un po' Va bene così Salta non è vero vedi come devi andare rispondi ah ce l'ho fatto ma non è giusto così ma io penso che fosse la piscina zio carne la piscina un burrone non lo so si oh yeah sei solo invidioso dai vai te lo lascio no vai continua tu tienilo così mi fai vai ma continua tu cazzo perchè me l'hai lasciato così all'ultimo me l'hai lasciato all'ultimo ma che cazzo ha spaccato la testa che cazzo poi dici che facevi le figure di me si ma se ne prese oh 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 rimbalzo ah 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 è bellissimo sto gioco batti ma fanculo è miss lore è dietro questo è dietro il boss qual'era già il boss non lo ricordo k o ooo è punch out è vero ah quindi ho fatto bene a dire di continuare perchè non sei capace e punch out dai è così è schivi colpisci è andato fuori si l'ho fatto partire eri sta faccia degli giapponi ma perchè hanno messo gli smider dei giapponi dai alla prossima con il terzo livello intanto balliamo un po' no chiudi mi fa scrivere un video cos'è un video quello ah ok perchè un video